Ciao ragazzi, sono Fabio Vazzani, volevo farvi un grosso in bocca al lupo per We Love Football, la competizione che andrete ad affrontare a Pasqua a Bologna. Questo è veramente un torneo con valori straordinari a cui ho avuto la fortuna di partecipare alla premiazione dell'anno scorso. Grandi squadre, torneo internazionale, grande competizione sul campo ma grande rispetto fuori, come deve essere il calcio, quindi sana competizione dentro ma grande rispetto fuori. Avrete la fortuna di farlo in uno stadio che ha fatto la storia del calcio italiano, in uno stadio nato da là, in una città splendida come Bologna, quindi sentitevi dei privilegiati. Complimenti a Marco De Marchi per l'organizzazione ma soprattutto grandissimo in bocca al lupo a voi e arrivate con tanta voglia di divertirvi. Questo torneo ve ne dà l'occasione. We Love Football. Ciao e in bocca al lupo. Grazie a tutti.